ciao ragazzi siamo in giardino piccolo aggiornamento a breve farò un video un bel tutorial soprattutto su piante low cost tipo quella lì ok quella pianta pagata 30 euro non vi va io vi farò vedere come si fa portarla avanti per farlo diventare un bonsai no perché molti stai chiedendo di fare video con piante costa un poco perché ovviamente neofiti hanno un po di paura spendere tanto che altro il por di perdere la pianta mamma mia questo mio grandissimo carpino fatto due giri clienti starter bonsai gold partito molto bene quest'anno devo dire zero problemi questo secondo me è una pianta che andrà a finire sicuramente in qualche mostra importante giri 23 anni perché perché sta bene ragazzi sta bene si costruisce bene ed è una bomba ok quindi questo è stato prodotto che gli ho dato più dna bonsai foto due cicli tutto sta procedendo bene so che alcuni sono contrari a prodotti chimici che ne so va bene noi facciamo vedere i risultati ognuno faccia come crede ok un'altra cosa tornando a parlare della margotta qui ok qui la vado a fare con la pianta andrà inclinata perché sarà questa nuova base ok valuto se farla quest'anno prossimo anno pianta comunque partita molto bene perché l'ho caricata bomba guardate che roba sta proprio bene c'è un bel verde come tutte le altre dai tranquillamente perché me l'ha chiesto questa la mia pianta ecco in vendita è un olmo fatta da margotta questo nuovo prodotto che sto sperimentando che è il colore provvisorio ovviamente quando sarà definitivo sarà grigio scuro bloc 3 lo chiamerò sicuramente o qualcosa del genere devo dire che questa volta ho trovato la veramente la ricetta che è perfetta non attacca alle dita ma attacca solo al legno ok quando lo si tocca è come come se fosse plastica morbida come ragazzi perfetto messo qui messo lì messo sul mio fico ok lavora molto bene ci plasma perfettamente e questo veramente un prodotto che secondo me supera anche gli standard giapponesi ok no una bomba veramente una bomba vino silvestre partito benissimo anche lui sempre anche lui con tanti strater bonsai gold quindi anche per la questione pini non c'è problema che lo voglio ridire anche questa volta non c'è problema sta ricacciando anche dal legno sta ricacciando guardate un pino che caccia a legno ok lì si vede lì pianta sta bene sta da dio ragazzi ci vediamo un nuovo video mi dispiace se ne manco da un po come sapete sono infermiere o parecchio da fare questo periodo ovviamente e in più ragazzi sono sommerso di ordini sono sommerso quindi prima di fare tutorial cose devo fare spedizioni perché le persone che comprano devono ricevere il prodotto subito adesso è importante che sia primavera che le piante mangino come si deve ok ci vediamo il nuovo video faremo un discorso con il mio acero qua il mio cugino qui facciamo appunto la situazione vediamo come si fa portare avanti una pianta da vivaio di poco conto magari che può essere una pianta scarto pianta a 30 euro questo vi ripeto adesso non ditemi che 30 euro sono una cifra esagerata perché sennò mi tocca fare un video per bonsaisti che hanno le mani attaccate le orecchie ok ciao a tutti state bene il comando state bene che bomba mamma mia ciao ragazzi